È stata rilevata nei bollitori del condominio contenente 101 appartamenti di via Monsignore Enrico Assi di Cremona la presenza del batterio della legionella. L'esame sull'impianto è stato effettuato 20 giorni prima degli interventi di sanificazione avvenuti venerdì 9 febbraio, data in cui sono arrivati i risultati del test. Gli abitanti del condominio sono stati avvisati del problema il giorno prima e venerdì sono rimasti per diverse ore senza acqua. Tra di loro filtra preoccupazione sulla possibilità di aver contratto il batterio da quando hanno ha preso la notizia, infatti dichiarano di aver ripercorso tutti i momenti in cui hanno svolto le normali attività legate all'uso dell'acqua, dalla doccia ai diversi lavaggi quotidiani. Ci hanno tolto l'acqua senza sapere che c'era la legionella. Mi hanno fatto chiudere il negozio, tutto ieri, ce l'hanno data ieri sera sul tardi, l'acqua è stato un bel disguido. Essendo appartamenti anche nuovi, non so questo batterio come ha fatto a entrare, mi lavo i denti, mi lavo le mani, facciamo tutto con l'acqua, però purtroppo ho i cani che bevono nell'acqua, non lo so se adesso i cani può essere contagioso anche per loro. Alcuni mi hanno detto che alcuni cani prendono la disenteria, però per adesso non è ancora successo e speriamo anche che non succeda. La doccia la si fa tutti i giorni, il vapore della doccia, diciamo che per adesso c'è andata bene, però questo vediamo nel tempo come può andare. E comunque siamo tutti nel condominio perché siamo più di 100, siamo anche un po' preoccupati. Apro l'acqua calda, mi sposto perché ho paura per i vapori, ha capito? Stamattina ne apri la doccia, mi sono spostata, ho aperto le finestre perché ho letto di fare così, faccio così. Adesso ogni sei mesi hanno detto che fanno i controlli, che li facciano ogni sei mesi. Grazie. 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 Grazie.